Non si sono registrati nuovi casi, oltre all'unico segnalato lo scorso venerdì, ma Pesaro gioca d'anticipo sulla prevenzione alla dengue, predisponendo una nuova disinfestazione in zona porto nella notte fra mercoledì e giovedì, al fine di evitare un potenziale aumento della densità della zanzara tigre in un ottobre di temperature ancora sostenute. L'intervento è stato programmato per giovedì 10 ottobre, dalle 3 di notte alle 6 di mattina, e si svolgerà per un raggio di 300 metri dall'epicentro di Viale Napoli. Convolgerà infatti via Malfi, via Legorizia, via Le Battisti, via Calata Duilio, via della Sanità, via Genova, via Grado, via Monfalcone, via Paterni, via Pisa, via Renzoni, strada tra due porti, via Le Trento e via Le Trieste. Nell'occasione il Comune invita a tenere aperti i cancelli degli edifici pubblici presenti nel perimetro per consentire ad Aspes di intervenire con la disinfestazione anche negli spazi esterni della casa di riposo Padre Damiani, della nuova scuola, dell'Istituto Dante Alighieri, delle scuole di infanzia Peter Pan Specchio Magico e scuola primaria Gian Santi. Per precauzione si suggerisce di tenere finestre chiuse, animali domestici in casa e non sostare nelle aree durante il trattamento. Disinfestazioni che nei giorni scorsi sono continuate anche a Fano e che per la prima volta in via precauzionale saranno effettuate anche ad Urbino che ha disposto tre notti di trattamento adulticida dentro le mura del centro storico dalle 3 alle 6 da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre.